Dal 1954 la donna è protagonista in televisione, il primo annuncio della televisione italiana è stata fatta da una donna e oggi la donna è ancora protagonista della televisione. La donna è apparentemente protagonista perché purtroppo anche quando sembra protagonista la donna in realtà si muove pensando all'occhio del maschio che è dietro la telecamera e all'occhio del maschio che è davanti al piccolo schermo a casa. Allora è questo che va cambiato, noi dobbiamo essere libere di muoverci secondo gli occhi di femmina e non necessariamente occhi di maschio. Pensiamo questo, io sono stata direttora di un telegiornale la prima volta nel 90 ed era il telegiornale di videomusic, poi la seconda volta nel 94 ed era il Tg3 e poi ancora ho diretto una web television e così via. Quando io dirigevo, poniamo, videomusic o il Tg3 ero l'unica donna a dirigere un telegiornale e in tutto il mondo televisivo oggi contiamo centinaia di canali, soltanto se pensiamo a quelli satellitari, centinaia. Quante donne sono direttore? Due. Ecco, quale sarà il futuro della televisione generalista secondo lei? Beh, la televisione generalista secondo me, lo dico nel libro, è finita in quanto tale. Godiamoci la vita e anche godiamoci una migliore televisione.